Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Un'altra challenge oggi nasce di Duingo. Allora le ultime due challenge sono state arrivare in almeno in tre finali. Allora io ho un'idea. Devi parlare qua che non senti nulla. Io ho un'idea non lo facciamo anche un'altra volta. Però una cosa, guarda, io te l'ho detto che ce l'hai. Potremmo fare una challenge, non toccare un colore? Allora l'ultima challenge era vincere una corona su due partite. Io ti invito! Rifacciamo questa che è difficile. Vincere almeno una corona in due partite. Oh eccolo! Io ho preso Silver Fox, io ho preso Pinguinox, Fox, Volpe, Silver, d'argento, ti amo. Ti amo! Io ti amo! Ti amo! Io ti amo! Io ti amo! Ti amo! Voglio che vinci tu! Ce la faccio la vincere questa corona. Ah, sì. Ma vi ricordate la scorsa volta che quelli mi spingevano, sono cascato e poi mi sono andato più. Però vi ricordate che a me non ho manuato la corona confinto è molto difficile dai fatti parola non qualificare l'inizio quindi la vedo dura andiamo con calma si devolvano altre persone se vabbè ma io posso mamma mia mamma mia che rischio io mi spingono quelli troppo sei morto prima partita andate in malora allora allora io cambio personaggio perché non mi fa tanto dai ragazzi questa partita come la vedo male dobbiamo vincere abbiamo solo una chance per vincere una corona io guarda quello che avevo quello dell'altra volta che aveva vinto quella io mantengo la silver fox perché secondo me un maghetto una bella volpe d'argento forse ho un'idea siccome il mago fa le magie e una volpe d'argento non è possibile io ho un'idea che tipo questo mago ha fatto diventare una volpe d'argento e quindi siamo contro a giocato però ragazzi adesso è difficile perché in questa cia la non ci stiamo di perderla le ultime due abbiamo visto come faremo a vincere questa corona vediamo un po chi lo sa chi lo sa chi lo sa pesce fritto e bacala ok darci un bel livello che sa ovviamente se ci capiscono di quei livelli come l'altra volta rischiamo di brutto c'era fai come un bossambo si e tu no no perché non ci sembra tanto oddio ci stanno un botto di un botto di botte un botto di botte oddio dio che ho fatto non c'è perché non ho riuscito adesso primo cioè questa è la mia seconda mappa preferita ma tu ancora all'altro provo a chiedere a te non ti lo dare troppo che troppo arriva sei arrivato ma io primo no primo che ho pure aspettato perché il vero che si fa ah no fai una cosa è riuscita che non era topi non so fare però ti ho pure iti bella eh ragazzi l'avete vista? tutti lo fanno basta ti becco ti vedo l'utilizzo del youtube per un anno 12 13 anni non puoi vedere youtube fino a quando hai tre anni lo sai tanto tanto adesso tanto adesso io mi vedo tanto adesso io mi vedo più altri ragazzi e comunque io quasi bravissima io era meglio che il finale per me perché io ci ragazzi ricordatevi la challenge quello mi sta di qua poi io faccio così ricordiamoci la challenge ragazzi non è facile oddio no perché perché abbiamo promesso di vincere una corona abbiamo promesso di vincere una corona oddio sto primo no ci sei tu mi vedi dove stai io sto all'ultimo laser ecco ti sono arrabbiatissimo tu dove stai? sei primo? chi io? io sto il secondo per esempio cascilla in pratica io ho un buco più io dai un po' sii finale non c'è la possibilità dai dobbiamo andare in due in finale che abbiamo più possibilità salta 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 si 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 non farei pazzi no ma perché fai queste pazze perché pure tu le hai fatte ma io sapevo che potevo di fare bella indorino non ci prendi non ci prendi ragazzi si giochiamo ancora la challenge adesso adesso è un bot no perché guardi un bot guardi un bot guardi un bot eh non lo so dai 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 non ce la farò mai dai indoron non devolvere oh io qua so un trick però non la faccio oh e dai però no vabbè sto uffè sto uffè sto uffè sto uffè non demordere indor no no io demordo perché non ce la farò non ce la farò già lo so babba mia l'avete staccato stupidi botte io gioco da pro anche se sto ultimo e ho skin del mago non me dai ragazzi devo andare a prendere questa corona dai ragazzi no dai aspetta mi ti prego cosa? perchè? perchè si dai io ci sono io eh ci stai la? ho vinto la corona sto qua dai no ti prego aspettami se ci sto vabbè dai aspetta no sta arrivando un altro luce c'era giomba dietro c'era lui lo sapevo hai vinto? siiii challenge rispettata